Ciao amici, oggi voglio aggiungere un altro strumento alla cassetta degli attrezzi per imparare a vivere meglio e superare le difficoltà inevitabili che la vita ci presenta. Vi piace l'idea? Allora in questo video vedremo insieme come trasformare una situazione che appare negativa in una situazione positiva. Ma Simona è impossibile, se qualcosa va storto va storto. Hai ragione, non possiamo cambiare gli eventi esterni, ma c'è una cosa che possiamo sempre cambiare, è la nostra risposta e come noi reagiamo agli eventi. Se qualcuno mi fa arrabbiare io mi arrabbio, mica posso fare finta di niente. Certo, ma per uscire vincitori e a testa alta da tutte le situazioni non bisogna subire le proprie emozioni e reazioni, ma imparare a indirizzarle nel verso giusto. Uscire vincitori a testa alta vuol dire avere noi il controllo invece di farci controllare dalle situazioni negative. Ho studiato l'argomento molto a lungo e oggi voglio svelarvi il frutto delle mie scoperte. 1. Come fanno le situazioni negative a controllarci. 2. Come trasformare le situazioni negative in positive. 3. Come mantenere le emozioni positive. Immaginate questa situazione che magari vi è anche capitata, come a me. Siete andati al centro commerciale, state andando via, siete fermi nel parcheggio e una macchina vi viene addosso. Vi è capitato? A me sì, è poco tempo fa. Ovviamente avete ragione voi, ma l'altro vi aggredisce pure verbalmente. Come vi sentite? Io mi arrabbio e gli urlo ancora più forte. Sì, brava, fagliela vedere. Sai che c'è un modo ancora più facile. Secondo le neuroscienze in questi casi la soluzione più efficace è mantenere la calma, prendere l'energia della rabbia e usarla per essere più lucidi e mantenere il controllo della situazione. Ogni situazione negativa ha solo un potere, alzare o abbassare la qualità della vita. Voglio dire questo, siamo di fronte a un pivio. O ci si lascia travolgere dall'incidente, dall'emotività dell'altra persona che si collega alla nostra e produce rabbia, frustrazione, ansia, paura, cioè emozioni negative. Quindi perdiamo il controllo e lasciamo che la situazione ci sovrasti come un'onda. Oppure in quel singolo istante decidiamo di essere protagonisti della situazione per quanto ci riguarda. Significa accettare ciò che è successo, anche se è un fastidio, è non farsi travolgere, restare calmi, anche se non è colpa nostra. Con questo atteggiamento trasformiamo una situazione negativa in positiva. È più utile decidere di essere protagonisti che dare spazio alle emozioni negative. Quindi facciamo un bel respiro e usciamo da questa situazione migliori e più forti di prima. Ma come faccio a rimanere calma? Io proprio non ci riesco. C'è un segreto per avere emozioni positive anche quando la situazione intorno non lo è per niente. Vi dico come si fa, ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per tanti altri video su crescita e potere personale basta iscriversi al mio canale con un click, così è attivata le notifiche. Ecco il segreto per avere sempre il controllo sulle emozioni negative. Le neuroscienze ci insegnano che la mente può concentrarsi su una sola emozione alla volta. O siete calmi o siete in preda all'ansia. Quindi allenatevi a sentirvi protagonisti calmi. Così quando arrivano le situazioni negative saprete collegarvi a queste parole. Io sono il protagonista della mia situazione. Vuol dire che se l'altro vuole urlare, urla da solo. Se vuole litigare, litiga da solo. Nel frattempo noi ci diamo il tempo di decidere attimo dopo attimo cosa fare, restando calmi e lucidi. Non sprechiamo energia. Ah, così ne usciamo a testa alta, soprattutto con noi stessi. Sì, e se ci pensate lo facciamo con gli altri quando ci raccontano le loro disavventure. Vogliamo aiutarli e sappiamo come fare perché le nostre emozioni restano positive. Non subiamo una pressione da emozioni negative. Mi rendo conto che per noi stessi non è sempre semplice, ma per ricordarvi di questo esercizio potete fare una medaglia della positività, come questa. Sul lato scuro triste focalizzate le emozioni negative. Sul lato chiaro che sorride focalizzate le emozioni positive. Questo per ricordarvi che potete sempre girare il negativo in positivo, come faccio io. Tenete con voi la vostra medaglia e fatela vedere alle persone vicino a voi. Se vi chiedono cos'è, fategli vedere questo video. Ora, per aumentare gli effetti positivi di questa strategia, vi consiglio di guardare questi miei tre video. Come risolvere i problemi, le quattro abitudini che cambiano la vita e come avere più forza interiore. Un percorso verso la positività! Già, e io vi aspetto al prossimo video, naturalmente. Ciao! Frutto delle mie ricette. Non è così che si fa. I love it!